E' condotti o tilted l'ho fatto per un po' e mi pare la migliore condotti barra tilted Da condotti si gira tilted, si va dusty, si scende o si va verso le tail Si fa così e si gira Questa potrebbe essere una rotazione Togliamo tutte le armi Questa potrebbe essere una rotazione Sono stato non laghi di più in sto game Laghi as fuck qua Questa potrebbe essere una rotazione Questa potrebbe essere una rotazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sto venendo baciato dalla fortuna in sto game Cioè iniziare così Una partita di torneo Eh sì Gesù Cristo Boh io sinceramente in torneo andare a fare una partita del genere così sì sarebbe god ma è rischio eccessivo Boh ragazzi poi ci saranno un sacco di player che andranno a giocare per dare fastidio alle persone Non lo so Non lo so veramente Se vi posso dire la mia secondo me sto torneo è tutto a cazzo Dall'inizio alla fine Completamente a caso Grazie a tutti Boh Cioè il fatto che è un torneo che si gioca prevalentemente in pubblica dove prendi un punto a kill 5 punti a vittoria 10.000 dollari più 10 punti se fai più di 20 kill Sì per carità Sarebbe bello fare 20 kill Primo siamo sui server europei I server europei sono più difficili di quelli americani per la qualità dei player Seconda cosa Per fare 20 kill dovresti tropparti a Tilted E Tilted è completamente RNG è completamente random A Tilted che devi fare Stai lì Aspetti Cioè devi sperare di trovare le armi giuste Di avere gli shieldini Come in questo game Fuck this shit Non posso buildare Allora 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 Pushiamo tutti dal primo all'ultimo Non c'è nienta altura A shaware Allora vedete quanto è difficile droppare 20 bomb ho quasi finiti i materiali per questo stronzato a primo venti bombe della stagione 5 boys ora muoio per una sniperata 100-100 muoio per una sniperata 100-100 scritto nani easy 20 bombe Dai Le prime 20 bombe Della stagione 5 Le sghere boys E chiamano anche ogni sorella E tirano ste bombe Un saluto a tutti i ragazzi di youtube